Ma è il senso di chi dice che in questo paese oggi c'è bisogno di mettere più risorse sul pezzo più debole della nostra società. Abbiamo investito tante risorse sui ceti medi, sulle imprese, oggi bisogna dare ossigeno al pezzo di Italia che non ce la fa più. Questo significa parlare prevalentemente, io penso, al mezzogiorno e a quei ceti sociali che vivono con maggior disagio questa crisi.